Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su The Council per andare avanti nella storia principale Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua Che avevamo parlato con Napoleone Bonaparte Ora però non mi ricordo cosa dovevo fare Ho sentito un rumore Non vedo nulla, non vedo Ma è stra-illuminato Vabbè, ok Che dovevamo fare? Qua c'è una moneta, ma la son vista proprio per terra, perfetto Un'altra monetina che va sempre comodo Poi, 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 poi Un Tribulus Allora, allora, allora Io sinceramente, c'abbiamo la chiave? No, non ce l'abbiamo Allora, apriamo Tanto Non costa niente Alla faccia del ca... Not bad Not bad Pappa reale is for men That's very appetizing Well, your eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony Is the most difficult of all in my eyes Nevertheless, what a charming moment we have had together I'm delighted I was able to talk to Mr. Von Volner We hadn't spoken to each other for an eternity Yes, I noticed that your eminence knew a fair number of people at the table The benefit of age, my son This isn't my first invitation to Lord Mortimer's You will see, it's the perfect place to make new friends Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun Ah, I adapt quickly to local customs It's what I was taught And you are right to do so, my son But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, your eminence But I still haven't been able to meet Lord Mortimer Do not worry, it is typical of him What can I say? Lord Mortimer is a very busy man I should think you are beginning to worry Visto che io non mi Non mi fido Dico veramente no To tell you the truth Not really You are right Be positive Perhaps Sarah is in the company of Lord Mortimer And they will both turn up shortly But While I have you with me I have a question for you Go ahead, Louis What can I do for you? Allora, allora Proviamo questa? Boh, mi sembra abbastanza affascinante If I said to you Where all eyes size you up Would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis But it makes me think of the portrait gallery There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course Just go through the door at the end It will lead into the library Continue all the way through And you'll end up in the gallery You'll see it, Louis When you get there, you'll know Thank you very much, Your Eminence On that last word Then I shall leave you to fight your demons See you later, Your Eminence See you later, my son Allora, allora Abbiamo capito che dobbiamo andare per di là Quindi Nel frattempo noi ci esploriamo un attimo questa zona vicino Giusto per vedere se mi sono... Sì, in effetti No, per vedere se mi sono dimenticato qualcosa Perché potrebbe anche essere Cioè, magari, sai La dimenticanza Ah, di qua Non si Si potrebbe andare Ma Torneremo indietro Quindi Direi di no Non avrebbe senso Qua c'è qualcosa, però Un libro Che può esserci molto, molto utile Bene Bene, bene, bene Qualcosa c'era Ci stavano per dimenticare una cosa importante Ragazzi Io direi che possiamo andare avanti Arrivati a questo punto Direi che forse, forse È ora Ma il pianoforte no Non si può suonare Me l'aspettavo A questo punto Andiamo per di qua Cioè, una moneta cinese Addirittura Cioè, proprio Come ci è arrivata Non si sa Eh, sblocchiamo Complimenti Hai racconto Quattro frammenti di ambra Il tuo numero massimo Di punti impegno È aumentato Di una unità Wow Molto bene Chiave con il simbolo occulto Della terra Forse poteva servirci Per prima Vabbè che non abbiamo speso niente Quindi, chi se ne frega Di conseguenza Wow Quanti libri Eh, ma se uno Lo beviamo Facciamo un altro Ok, così siamo Pieni Ah, si può andare anche su? No, non si può andare su Ah, siamo pieni Siamo pieni Niente, non possiamo raccoglierlo Peccato, peccato Mi sarebbe piaciuto, ma Perché? Oh Altra pappa reale Che poi È miele O pappa reale Che non ho ancora capito Perché non penso Che sia proprio La stessa identica cosa O è stato Tradotto male Cosa molto probabile Buono Wow Stiamo trovando cose interessanti Eh, monete Ancora Ehm, andiamo Comunque Ho una brutta sensazione Per me Lord Martimer Non lo vedremo mai Non è mai esistito Io la butto lì È tutto un piano diabolico Ok Troviamo questa menusa A sto punto Allegori Regarding the decoration Of the rights of men That's the least you could say Liberty Liberty Or death By Regno Well, I'll take liberty, please Ah, painting by Ingres Moliere Dining with Louis XIV Potrei sedermi ma Non penso che abbia molto senso Anche perché Abbiamo da fare Sinceramente parlando Sedezio non è proprio Il momento più opportuno Non si può uscire Peccato Speravo di sì Mamma mia Sa telecamera A volte Un po' fastidiosa Niente Non si può andare Nessuna parte Christ Christ Crucifito Vabbè Vabbè Finché non ce l'abbiamo Perché dovremmo usarlo Non credo che abbia molto senso Non ci sia Che è un po' fastidio E' un po' fastidio E' un po' fastidio E' un po' fastidio forse cos'è un'altra moneta? ma dell'ambra dell'ambra frammenti di ambra ancora di qua non si può andare quindi la strada è chiusa in effetti si deve finire così bene 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 no niente di qua direi a sto punto che possiamo andare in questa stanza che dite qua non si non c'è niente questo mi sa di di sospetto sto sta scultura dove sta la medusa intanto intanto eh però ha gli occhi che sono lucidi secondo me c'è qualche passaggio segreto qui dobbiamo capire il meccanismo la soluzione dell'enigma auguri io ho queste cose non le so posto quindi sarà complicato però ci proveremo non posso porca miseria vabbè immaginavo no ho capito ho capito niente niente quando parte parte harpies mermaids chimera hydra gorgon ah section medusa ok quindi devo praticamente mettere mettere il guerriero contro la medusa quindi da quest'altra parte mettere ok questo l'abbiamo capito perfetto 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 quindi giriamo ruota ruota verso la medusa medusa anche perché se no non ha molto senso invece la medusa disponibile disponibile ricorda il messaggio di tua madre non si può ruota verso l'eroe con la spada ok quindi un passaggio l'abbiamo fatto bene intanto beviamo ancora ok perché poi mi ha dato alterazione negativa il fatto che ha bevuto troppo questo questo non lo ha capito sinceramente questo non lo ha capito per niente mamma studia la configurazione in Quindi, verso l'eroe con lo scudo, così lo scudo ritrae la luce contro la Medusa, in modo che la cechi e dopo... ...la zona del meccanismo. E' rovinato. Ok. Allora, a sto punto, giriamolo verso l'eroe con la spada. E' morto? E' morto? E' morto? Non si può. Hmm. Il meccanismo è usato qui. Quando la scudo non è rivolta verso la spada, la macchina si fredda. La statua deve essere in questa posizione la maggior parte del tempo. E' morto dalla marco del tempo. Quindi, questo rende facile. La scudo deve essere rivolta verso la spada. Il problema è che non posso... Si, si può. E' già lì. C'è già. Allora, ragazzi. In teoria... Mmm. Sono andato alla conclusione. Se giro questo verso l'eroe con la spada... Ok. Mamma mia. Ci ho messo un bel po', ma... Dettagli. Infatti, io non sono bravo in queste cose di logica. Sì. Wow. Mah! Per Pete's sake, Emily! A me nestappi dai gemmins. Non mai facciamo questa volta. Io direi di evitare la domanda con umorismo. Che poi che ci fa lei qua? Ma poi, lei che ci fa qua? Vabbè. Io bo... così. Così. Esamina i simboli. Emilio, sono sicuro che ho la boxe di Pandora. Ovviamente ti ho. Voi un po' di terra e immaginamente assume che sia solo la boxe di Pandora. Logico. Lo che mi piace di te, Louis, è che tu non hai avuto a me sorprendere. Apre il vaso. Emilio, cosa se io apre il vaso? Ci farà l'unico responsabile per tutti i eviti? Provate, farà un cambiamento. Allora, possiamo continuare ora? Mi piace la tua ironia, ma, sinceramente, sei mai impressionato da qualcosa che vedete? Da una città? No, veramente devi fare meglio di quello. Vabbè. Tutto è andato a quel paese, in poche parole. So che noi non abbiamo più il miele, o come si chiama, quindi non abbiamo più... Una città? Si chiama, si chiama. Proviamo. Città? Vuoi un vaso? Che ti sceglie. Non potrei essere morta in questa città. È una piazza. La città? La città è una piazza. A vostra città ha la tante? E la vostra città è una piazza. Mi ciò che provano? Un'effizibile pericol. Vatticanone, potrai più sicurare il questo tipo di libro a Vatican. Non è niente speciale. Il biblioteca Buckingham ha 3. Anche l'Evangelo. Le avete letti? Però dai, sono belli questi si parietti, mi piacciono tantissimo. Davvero. Allora, qua non c'è che neanche al momento da vedere. Non posso. Prova la corona. Allora... Ehm... Spada dai Giovanna d'Arco. Ma insomma lo sto facendo, in maniera ironica ma lo sto facendo. Ehm... Ehm... Altra ambra. Ma, no, non voglio andare qui io però, vabbè. Forse Mortimer è immortale. Ehm... 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 Proviamo. Proviamo. Ehm... 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 Facciamo ancora questa cosa, eh. Ehm... Ehm... Facciamo ancora questa cosa, eh. Ehm... Assicuriamola. Ok. Ma cosa,ña non vediano come partner per durare! Ehm... Niente male! Niente male! Non s***erò che, le te valore. perché! Cosa! Grazie a mio team,ектор. Ehm... Consideratevi un'eserciza che ti ho anche dato questo tanto. È estremamente raro, credi me. Come on, non stopi ora che tu hai venuto così farlo. Siete che inizialmente ti faccio parlare. Well, se nessuno ti può resistire, vediamo se puoi capire chi è mio partner. Ehm, Dio. Ehm, quindi, il tuo partner è... Visto che ricorda la sua reazione, sarà una donna. Andiamo? No, non posso visualizzarlo. Ehm... Sua madre? Ma porca miseria. È vero che è orfana, è vero. Ehm... Sua sorella, immagino. Dai, cavolo. Ah, ok, ok. Ce l'abbiamo fatta. Ehm... La donna con due fasi Certo, ma non è complicato? Come ti faccio funzionare? Una di noi non ha un'esistenza nel mondo extranjero Abbiamo tutto, prima per una, poi per l'altra Abbiamo vestito la stessa, vestito la stessa, parliamo la stessa Abbiamo aprenduto a agire come una Quando acceptiamo una missione, ci siamo tutti arrivati Questa volta, lei è andata, e io ho pensato di aspettare per la terra Certo, lei è pensato di trovare a casa e portare le dettagli Quindi potremmo sapere come si seguirebbe E c'era un problema? Certo, lei è pensato di tornare da Mortimer's una settimana La bata si è arrivata a Plymouth Ma, alas, non c'è una notizia di mia sorella Inoltre, un sailer passato mi un messaggio di casa Notificando me di una sudden disperazione Quindi, mia madre e tua sorella Sì, è vero, è vero No, direi no Now that you are in on the secret You are obliged to keep it to yourself Or you will pay very dearly Don't worry, your secret is safe with me It's time to leave Hmm, si fa intrigante la faccenda Anche lei ha perso qualcuno La sorella, non è la madre, insomma Qua tutti sparescono, nessuno si ritrova Cavolo È bella tosta Come situazione E niente, e niente, niente Ho fatto colpo, eh Attenzione 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 Louie, abbiamo bisogno di parlare ora Inoltre, sarà troppo tardi Si sembra che Elisabeth mi realmente necessita Ma se inizio a parlare con lei, sicuramente Emily won't wait for me Che devo fare? Però non possono farmi questa cosa qui Su Cioè, dai Porca miseria, veramente Per me Emily, non so Mi sembra parecchio strana Se si chiama Elisabeth Per me lei c'è qualcosa che ci può dire Io vado con lei Mi è toccato ragazzi Certo di logica Io col cuore sarei andato con Emily Ma dettagli Sì sa who you saw my mother when just last night i went out to walk along the cliff top and i saw her in the distance she tried to hide right away but i'm sure it was her are you saying you recognize my mother in the middle of the night while she was hiding yes louie i know it was her you just said she was far away right in the middle of the night and the exterior of the island isn't exactly well-lit listen i'm telling you it was her non posso did you care no she was far away i i didn't make any noise and then she was gone you told anyone you've seen her sir home mortimer you don't understand it's her she's here yes i understand no you're not listening the moment i saw her i was overcome by spasms she's here i'm telling you it was her yes i need something to calm me down i'll drink with you but let's go easy on it okay who's that she gets her rocket from but frankly it's disgusting you know louie when i came here it was in the hope of getting help i've only just now realized that i've been drawn here into a trap wow alcohol is gone to my head cos'è che c'ha dato questa here the condemned last drink mi fermo qui dai su elizabeth alcohol never solves anything i'm going to stop now listen up you want to know what your mother was capable of right you want to know the reason why well you're gonna have to follow me to the bottom of the abyss louie either drink or get out nice so i need to take it easy with the booze at this rate i won't last the night doc let's go easy on the drinking okay alcohol won't solve our problems the second one isn't any easier so do you want to know why she did all those things to me or not even if it changes the image you have of her forever what was she trying to cure you of them of the one illness she never managed to treat me for insieme fino alla fine come on elizabeth we have to finish we started i feel dizzy there must have been a reason curato tell me tell me what my mother treated you for she wanted to silence them what what are you talking about silence what the voices the voices in my head they speak to me louie they've always told me what to do they say nasty things to me they say nasty things to me elizabeth are are you saying that that spirits talk to you you're right sometimes there are several voices how did you know no listen i i don't know anything i i'm just repeating what you said they want me want me just for themselves they talk to me all the time yet your mother did everything to make them go away ever since i was little and look at the result it's impossible mother you spent your life trying to prove that the supernatural doesn't exist why punish this poor girl oh shit what has she done to you uh oh louie are you starting to believe me no but too bad it's all been for nothing they're still there you know what do you mean they're still talking to you all the time despite everything sarah put me through i still hear them and here i am on a lost island knowing that no one knows me and i find myself here at the exact same time as her you see you understand you sense it too i'm going to die here ma perchè i beg you tell me you believe me ehh vi credo su dai i'm here elizabeth i'm right here with you and i do believe you thank you louie you know despite what people might think i'm not crazy e ancora con sto bere basta su basta bere cala robaccia che fa pure schifo cioè non si beve my god elizabeth how is this possible welcome to my world lil louie welcome to my life io li consiglia di scappare dall'isola sinceramente the whole story stinks of death if i were you i'd have left the moment you heard me speak about my mother i don't know if she knows you're here but if i had any doubt i wouldn't take the risk yeah you're right i can't stay here another minute i need to get the hell out of here i need to find a boat and get away i'm not dying here oh i feel so dizzy you like my little concoction don't you ecco that's rare that's rare that's rare and no longer has any effect on me but my guess generally don't appreciate me mixing alcohol with laudanum what you put laudanum in my drink in both don't worry my little louie we'll sink down to the bottom together che bello oh man i feel like puking i really feel like shit i gotta get back don't worry louie i'm here now i'll take good care of you and then i'll leave don't touch me just li if i get up a fall mi sa che sta male eh oh little louie's tired leave everything to me nooo cosa vuoi fare just let go ma che cazzo è successo mi sa che era meglio andare con Emily mi sa eh vabbè ho dei punti da 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 sbocchiare a questo punto occultismo 1 ehm qua qua vabbè facciamo così eh facciamo così ah è finito il primo episodio è finito il primo episodio ragazzi vabbè saltiamo comunque ragazzi abbiamo dopo a fare tutti questi episodio qua altri 3 insomma il gioco si fa davvero intrigante ragazzi molto molto intrigante ragazzi direi che per oggi tutto noi ci becchiamo al prossimo video ciao